Allora benvenuti a questo a questo webinar di aggiornamento mensile e la maggior parte di questo webinar sarà dedicato al decreto trasparenza questo perché chiaramente è stata una novità che ha impattato moltissimo sul nostro lavoro e su quella che è la gestione del personale e insomma la gestione del personale nelle aziende quindi volevamo fare un focus appunto di aggiornamento per rendervi partecipi di tutti quelli che sono gli obblighi e un pochino anche spiegarvi quelle che sono state le decisioni dello studio insomma in termini di gestione degli adempimenti di soprattutto di assunzione e gestione del personale. Allora quindi passando ai temi che affronteremo legati appunto al decreto trasparenza verranno anche affrontati vi anticipo che alla fine del webinar verranno affrontati anche gli aggiornamenti di settembre vi daremo alcuni cenni di alcuni aggiornamenti che verranno ripresi poi nei prossimi webinar perché siamo in attesa di chiarimenti da parte delle dell'IPS del Ministero del Lavoro dell'Agenzia delle Entrate quindi partendo appunto dal decreto trasparenza allora innanzitutto la normativa parleremo della normativa e dell'ambito di applicazione per poi parlare del tipo di comunicazione che si può effettuare delle informazioni che devono essere date delle condizioni minime che ha imposto il legislatore per tutti i contratti di lavoro, dell'applicazione del decreto trasparenza particolari tipo di contrattuali, delle prestazioni all'estero, di quelli che sono gli adempimenti legati ai sistemi di decisione monitorale automatizzati e del regime di sanzionatorio. Allora innanzitutto la norma, la norma dicevamo appunto il decreto trasparenza è entrato in vigore a partire dal 13 di agosto e sono seguite al decreto trasparenza due circolari, nello specifico la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la numero 4 2022 e poi la circolare del Ministero del Lavoro, la numero 19 2022 che è festa festa della scorsa settimana. Entrambe le circolari hanno dato delle indicazioni operative su come appunto gestire questi nuovi adempimenti. Quindi allora innanzitutto i destinatari chi sono? I destinatari sono tutti i soggetti assunti dal 13 agosto in poi, quindi chiunque sia stato assunto dal 13 agosto in poi con i contratti che dopo specificheremo avrà diritto sostanzialmente a tutte quelle informazioni definite appunto dal decreto trasparenza. Mentre per gli assunti prima del 13 agosto sostanzialmente saremo tenuti a fornire le informazioni definite del decreto trasparenza, che vedremo sono veramente tante rispetto a quelle che fornivamo prima, entro 60 giorni dalla richiesta. Quindi se un lavoratore è stato assunto 5 anni fa e ci fa richiesta di avere tutte le informazioni previste dal decreto trasparenza, noi abbiamo 60 giorni di tempo per dare queste informazioni. Un nuovo assunto, se io assumo oggi, vedremo che l'informativa completa dovrà essere data massimo entro 30 giorni dall'assunzione. I rapporti, i contratti di lavoro interessati quali sono? Beh, innanzitutto tutti i rapporti di lavoro subordinato, quindi a tempo indeterminato determinato appare di stato intermittente part time, i contratti di collaborazione coordinata in continuativa, le prestazioni occasionali intendendosi per tali, quelli pagati con i voucherings, quindi lo applicano pochissime aziende, i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro somministrato. Invece non devono essere applicate queste disposizioni ai rapporti di lavoro autonomo, quindi collaboratori con la partita IVA per intenderci, ai rapporti diciamo alle collaborazioni per state da familiari, ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai rapporti di lavoro caratterizzati da un monte ore settimanali, settimanali inferiore alle tre ore settimanali su quattro settimane. È importante però perché affinché siano esclusi dall'obbligo dell'informativa prevista dal decreto trasparenza è che sia la predeterminatezza che l'effettività delle ore prestate sia inferiore alle tre, quindi se io prevedo che il rapporto di lavoro sia inferiore alle tre ore per quattro settimane, però poi effettivamente faccio lavorare il lavoratore di più, sarò tenuto a dare l'informativa prevista dal decreto trasparenza. La comunicazione, la comunicazione come verrà effettuata? La comunicazione verrà effettuata innanzitutto con la lettera d'assunzione classica a cui eravamo abituati che vedremo potrà essere comunque integrata delle ulteriori informazioni o potrà essere corredata di un'informativa a parte, comunque consegnata insieme contestualmente alla lettera di assunzione, quindi al momento dell'assunzione deve essere data sia la lettera che l'informativa e deve essere dato o comunque messo a disposizione anche il contratto collettivo nazionale vigente con eventuali accordi di secondo livello. Quindi sostanzialmente io come azienda posso decidere se mettere tutto nella lettera d'assunzione e poi mettere a disposizione il contratto collettivo e gli accordi di secondo livello, oppure se al dare alcune informazioni nella lettera d'assunzione e dare altre informazioni in una scheda informativa che è staccata a parte e poi ovviamente mettendo a disposizione, come dicevamo, il contratto collettivo e gli accordi aziendali. Ora, noi come studio a livello organizzativo abbiamo deciso di organizzare il lavoro in questo modo. Allora, nelle lettere d'assunzione mettiamo le informazioni principali a cui sostanzialmente eravamo già abituati nelle lettere di luglio dove diamo le informazioni specifiche relative al rapporto di lavoro mentre quelle proprio particolari, quindi la tipologia di assunzione, la retribuzione, l'orario di lavoro, il periodo di prova mentre tutto ciò che invece è più legato al contratto nazionale che io adesso sono obbligato a, insomma, un'informazione che sono obbligata a dare che però riguarda un po' la generalità dei lavoratori noi abbiamo deciso di metterle in un'informativa che di fatto è un po' una sintesi del contratto collettivo riportato in modo abbastanza chiaro e schematico perché abbiamo preso questa decisione ma è semplicemente una questione operativa la nostra nulla vieta di scrivere, come dicevamo, tutto nella lettera d'assunzione chiaro che se io scrivo tutto nella lettera d'assunzione la lettera d'assunzione mi diventerà di 30 pagine però quella è chiaramente una scelta prettamente operativa di come gestire questo adempimento ovviamente l'obiettivo è non essere sanzionabili e adempiere alla norma quindi in questo modo secondo me noi rispondiamo e diventa un pochino più facile gestire tutte le casistiche e tutte le assunzioni che ovviamente noi gestiamo come studio quindi come devono essere date le informazioni? Le informazioni devono essere date in modo chiaro e trasparente possono essere date sia in formato cartaceo che via mail o in formato elettronico quindi tramite mail al lavoratore o cartaceo appunto come dicevamo messi a disposizione date sulla mail aziendale o messe sulla intranet dove il lavoratore possa accedere e la prova di consegna deve essere conservata per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro ora sono intervenute due circolari relativamente agli adempimenti che a nostro avviso sono un po' in contrasto l'una con l'altra vale a dire che la circolare è quella dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro da numero 4 2022 che è uscita se non sbaglio il 10 di agosto ha chiarito che sostanzialmente io devo dare le informazioni principali nella lettera d'assunzione che anche lì informazioni principali quali sono? cioè tutte quelle elencate o solo alcune non si capiva esattamente bene cosa intendessero comunque diceva le informazioni principali date nella lettera d'assunzione dopodiché posso rimandare per il dettaglio la contrattazione collettiva quindi in quel momento noi addetti ai lavori ci siamo illusi che fosse un pochino risolta la questione perché abbiamo pensato ok se posso rimandare al contratto collettivo di fatto rimane un pochino sullo schema di quella che era prima la lettera però ovviamente se c'è stato un aggiornamento normativo non può rimanere tutto come era prima quindi ha creato ovviamente questa cosa un po' di confusione e poi è uscita una seconda circolare del ministero del lavoro la numero 19 2022 della scorsa settimana praticamente in cui è stato detto a nostro avviso una cosa diversa ci è stato detto chiaramente l'obbligo informativo non è assolto dall'astratto richiamo delle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro ma quello che dice nella sostanza è che bisogna andare nel concreto e dare le informazioni in modo chiaro e trasparente ed è per questo che noi abbiamo optato per creare una scheda informativa sintetica sostanzialmente del contratto collettivo applicato che ovviamente dovrà essere integrata nel caso ci siano accordi di secondo livello delle regole specifiche previste per l'azienda quindi detto che appunto queste due circolari a nostro avviso erano un pochino in contrasto fra di loro noi abbiamo optato per la soluzione appunto che vi ho detto poco fa le informazioni da dare andiamo nello specifico delle informazioni da dare allora innanzitutto nella lettera d'assunzione però queste sono le informazioni che avevamo già nelle lettere prima quindi a cui eravamo già abituati l'identità delle parti luogo di lavoro la sede di lavoro l'inquadramento la qualifica la retribuzione il periodo di prova insomma queste cose devono continuare a essere date erano date prima e continuano a dover essere date adesso cosa è cambiato? è cambiato adesso io ho evidenziato poi ho fatto un riassunto di ciò che è cambiato poi dopo andiamo ad analizzare nello specifico le parti più importanti allora nel caso di identità delle parti se ci sono accordatori le devo indicare nella retribuzione rispetto a prima devo indicare anche le modalità al periodo di pagamento quindi tramite modifico bancario ad esempio entro i 10 del mese successivo per quanto riguarda il luogo di lavoro devo indicare nel caso in cui sia possibile fare smart working che il lavoratore ha la possibilità di autodeterminare il posto di lavoro perché in caso di smart working determina che il suo domicilio solitamente devo indicare le parti sindacali che hanno sottoscritto il contratto devo indicare gli enti previdenziali assicurativi quindi oltre all'insalina in tutti gli enti previsti da contratto collettivo a cui il lavoratore potenzialmente può anche aderire quindi non solo il fondo sanitario integrativo previsto per il contratto che può essere appunto il fondo OEST piuttosto che i sanarti insomma in base al contratto collettivo applicato ma anche tipo il fondo di previdenza complementare quindi ad esempio dove posso mettere il TFR il fondo previsto dal mio contratto collettivo tutto devo indicare mentre per quanto riguarda l'orario di lavoro nel caso di un orario di lavoro che sia programmato normale devo indicare comunque la collocazione le eventuali condizioni per lo straordinario cambio turno i limiti dello straordinario quindi devo dare tutte queste informazioni mentre nell'orario di lavoro per i rapporti di lavoro per cui l'organizzazione è in gran parte interamente imprevedibile quindi ad esempio per gli intermittenti per capirci dovrò indicare se c'è ad esempio un minimo di ore di garantite settimanalmente oppure il preavviso nel momento in cui io chiamo il lavoratore o comunque gli chiedo di aspettare la propria prestazione e dovrò indicarlo sostanzialmente nella lettera d'assoluzione quindi ad esempio noi per i lavoratori intermittenti abbiamo indicato che per la maggior parte dei casi non c'è un minimo di ore garantito settimanali ed eventualmente il datore di lavoro può definire appunto quanto preavviso dare al lavoratore per quanto riguarda ferie e congedi lo affronteremo meglio dopo comunque bisogna quantificarli esattamente quante ferie ha diritto al lavoratore e congedi a cui ha diritto dovremmo indicare i termini di preavviso in caso di preaccesso sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore e dovremmo indicare anche la procedura quindi ricordiamo di indicare ad esempio che la procedura di dimissioni è telematica o se si tratta di una dimissione durante il periodo protetto dovrà essere convalidata presso l'ispettorato del lavoro ed infine per quanto riguarda la formazione se prevista dal contratto collettivo vedremo dopo le regole a cui il datore di lavoro deve stare e le informazioni da dare quindi dovremmo indicare la formazione obbligatoria se prevista qualora le informazioni cioè le condizioni contrattuali cambino ma cambino per insomma per delle modifiche legislativo del contratto collettivo in questa cosa è stato chiarito che non sono obbligata a pubblicato come datore di lavoro a informare immediatamente il lavoratore però se non derivano da appunto da contratto collettivo o da variazioni legislative a quel punto sì devo indicarlo subito prima della decorrenza quindi tornando sui punti principali delle code che devono essere indicate ferie allora la normativa dispone che io devo dire devo indicare ferie e congedi retribuiti quindi abbiamo detto che non possiamo richiamare genericamente il normativo o il contratto collettivo però dobbiamo indicare il numero di ferie quindi giorni ore a cui è diritto il lavoratore è stato chiarito dal ministro del lavoro che devo andare nel concreto quindi del rapporto di lavoro e della gestione comunque anche a livello aziendale quindi devo dare questa informazione in modo chiara e semplice e per limitare ovviamente lo spettro dei congedi permessi e ferie indicabili che sono tantissimi il ministro del lavoro ha detto che devo indicare il numero di ferie e poi tutto ciò che è chiamato normativamente congedo e che è retribuito quindi sono escluse dall'informativa ad esempio le aspettative non retribuite i permessi non retribuiti e tutto ciò che non è chiamato a livello legislativo congedo quindi ad esempio i permessi faccio l'esempio per assemblea quelli non devo indicarli perché non è chiamato congedo ma è chiamato permesso proprio perché il congedo di solito comunque impatta di più sul rapporto di lavoro pensiamo appunto al congedo della maternità il congedo della paternità il congedo straordinario quello per assistenza a persone disabili quindi dovrò indicare quei tipi di congedi appunto tutti quelli retribuiti mentre per quanto riguarda la retribuzione dicevamo che dobbiamo indicare modalità e termini di pagamento e devo dare devo elencare i componenti della retribuzione che sono oggettivamente determinabili al lato della soluzione in altre parole le parti variabili come ad esempio i premi di risultato non sarò tenuto a doverli indicare perché non li sto a priori però dovrò indicare eventualmente i criteri con i quali eventualmente li riconosco mentre per i quali farei buoni passi è stato indicato che io devo indicarli solo se previsti dalla contrattazione collettiva quindi alcuni contratti collettivi prevedono che io debba dare dei flexible benefit appunto quindi buoni spesa per capirci di 200 250 euro e anche gli ticket buoni passo se l'azienda prevede che sostanzialmente vengano dati per passi aziendale dovrò indicarli per quanto riguarda l'orario di lavoro programmato quindi appunto quasi tutti i contratti ad eccezione sostanzialmente del lavoro intermittente o dei co-co-co per capirci dovrò indicare la collocazione dell'orario dovrò indicare anche eventualmente quali sono le condizioni dei cambi turni le percentuali di maggiorazione degli straordinari i limiti degli straordinari a livello annuale quindi dovrò dare questo tipo di informazione mentre hanno definito delle condizioni minime che saranno applicabili a tutti i contratti di lavoro quindi in ogni caso queste sono le condizioni minime a cui dovranno adeguarsi tutti quindi se il contratto collettivo non provvede nulla io dovrò comunque adeguarmi a queste condizioni minime quindi viene affrontato la questione del periodo di prova che dovrà essere massimo di ruota di 6 mesi e dovrà essere prolungato 6 mesi era già previsto da legge però può essere prolungato in caso di malattie infortuni o congetto di maternità e congetto di paternità obbligatori la circola del 19 2022 mi ha dato un'interpretazione della norma dicendo sostanzialmente che in realtà questa lista che era stata fatta appunto dal legislatore non era tassativa ma era esemplificativa e quindi allungano in realtà secondo il ministero il periodo di prova anche altri permessi come ad esempio quelli della legge 104 ora su questo punto alcuni diversi esperti del gius lavoristi insomma molto rinomati in Italia che sono esperti dubbiosi ovviamente perché la circolare di per sé non può cambiare il significato di una legge quindi per quanto ci riguarda noi siamo più orientati a considerare come diciamo eventi che sospendono il rapporto di lavoro quelli definiti da legge in ogni caso ricordiamo che il datore di lavoro può recedere durante il periodo di prova un po' prima della scadenza del periodo di prova mentre non si può assolutamente recedere dopo la scadenza quindi nel dubbio se dobbiamo recedere recediamo un pochino prima del periodo di prova quindi se facciamo un esempio pratico se io ho un periodo di prova di tre mesi ho una malattia di un mese in mezzo quindi dovrei scalare il periodo di prova di un mese ho avuto diciamo oltre un mese di malattia anche tre giorni di permesso centoquattro non farò scalare in termini del periodo di prova di un mese tre giorni ma solo di un mese proprio per la regola che ci siamo detti adesso perché nulla mi vieta di recedere eventualmente qualche giorno prima questo è un nostro consiglio in attesa ovviamente di chiarimenti perché stiamo aspettando tanti chiarimenti su questo decreto trasparenza per quanto riguarda il contratto a tempo determinato è stato definito che il periodo di prova dovrà essere riproporzionato ora chiaramente se il contratto collettivo prevede già di per sé un riproporzionamento piuttosto che una definizione del periodo di prova per il contratto a tempo determinato non ci sono problemi applico il contratto collettivo però se il contratto collettivo non prevede nulla a quel punto dovrò definire un meccanismo di riproporzionamento e quale potrebbe essere un meccanismo potrebbe essere prendo il periodo di prova per un tempo indeterminato ovviamente dello stesso livello eccetera lo divido per 12 quindi in dodicesimi e lo moltiplico per il numero di mesi del contratto a tempo determinato quindi se faccio l'esempio se io devo assumere un lavoratore per 6 mesi e se lo assumessi a tempo indeterminato avrebbe appunto 60 giorni di periodo di prova però 60 giorni diviso 12 per 6 mi danno 30 giorni quindi questo è un metodo per riproporzionare che potremmo applicare ovviamente sarebbe meglio inserirlo in un accordo collettivo aziendale per dargli più più valenza però l'importante è avere un metodo di calcolo univoco a nostro avviso il datore di lavoro non potrà più vietare il lavoratore di avere più impieghi contemporaneamente a fatto che a meno che eccezioni a tale divieto sono date dal fatto del pregiudizio possibile per la salute del lavoratore quindi anche in termini di riposo vale a dire se appunto il lavoratore lavora dalle 9 alle 18 e poi decide di fare anche il cameriere la sera e quindi poi si mette a rischio la propria salute la propria sicurezza è quella degli altri lavoratori perché poi magari arriva al lavoro stanco questa persona fa un lavoro non so il magazziniere o guida un muletto per dirci se arriva al lavoro il giorno dopo troppo stanco può eventualmente far male anche ad altre persone quindi in quel caso vi lo posso vietare quindi se mette a rischio la sua salute è quella degli altri lavoratori quindi posso vietargli anche se deve se bisogna garantire un servizio pubblico oppure se potenzialmente in conflitto di interessi con il datore di lavoro quindi sa quello che fa al di fuori potenzialmente in conflitto di interesse con quello che fa in azienda il legislatore nella circolare è stato chiarito che sarà il lavoratore a dover informare il datore di lavoro in caso appunto di impieghi in cui si verifichino queste circostanze è chiaro che noi consigliamo di mettere nell'informativa di inserire nell'informativa un'indicazione in cui di fatto si informa il lavoratore di appunto di che deve gli si dice che appunto che deve informare il lavoratore in caso di sussistenza di queste condizioni per quanto riguarda la prevedibilità minima dell'orario di lavoro appunto si dice che il lavoratore di lavoro può imporre al lavoratore di svolgere un'attività lavorativa solo se era predeterminato per ore in alcune ore giorni insomma della settimana e se il lavoratore è stato informato con sostanzialmente sufficiente preavviso il lavoratore potrà inoltre se lavora almeno sei mesi in un'azienda potrà richiedere un contratto di lavoro più stabile prevedibile ad esempio quindi parliamo sostanzialmente se un intermittente un lavoratore a tempo determinato ha lavorato per almeno sei mesi in un'azienda potrà richiedere ufficialmente di essere trasformato a tempo indeterminato quindi potrà manifestare la propria volontà per iscritto e il lavoratore di lavoro dovrà rispondere entro un mese questo diritto si un po' interseca con quello già presente del diritto di precedenza per il contratto termine per cui comunque un lavoratore a termine che lavorava almeno sei mesi in un'azienda aveva il diritto un diritto di precedenza che doveva comunque esprimere per iscritto doveva esprimere per iscritto di essere assunto a tempo indeterminato per sostanzialmente ricoprire la stessa mansione nell'azienda per cui aveva lavorato a tempo determinato questo diritto di precedenza non è un diritto banale nel senso che le aziende che violano il diritto di precedenza possono addirittura perdere gli sgravi ricordiamo bisogna capire se questo diciamo richiesta di trasformazione a formi di quadrato più stabili potrà portare eventualmente un incremento dei contenziosi perché io ti chiedo di trasformarmi ad avere un contratto più stabile tu mi dici di no ma perché mi dici di no insomma bisogna capire cosa comporterà a livello pratico poi in futuro per quanto riguarda la formazione obbligatoria nel momento in cui è prevista una formazione obbligatoria dovrà essere considerata come orario di lavoro gratuitamente a tutti i lavoratori dovrà essere svolta durante l'orario di lavoro è stato chiarito che questa queste cose comunque cioè questa informativa non deve essere data in caso di formazione professionale per quanto riguarda invece le particolari allora andremo un pochino lunghi oggi perché come avete gli argomenti sono tanti sto cercando veramente di ridurre le condizioni più le cose più importanti e vi chiedo già scusa se andiamo un po' più lunghi per quanto riguarda le particolari tipologie contrattuali a cui si applica questa informativa trasparenza allora dicevamo il contratto intermittente dovremmo dire appunto esplicitare oltre la tipologia del rapporto di lavoro tutte le cose che dicevamo prima però anche esplicitare la natura della programmazione di lavoro indicare se eventualmente devono essere garantite delle ore lavorative quindi eventualmente una fascia di dire perività ovviamente retribuita con l'identità di reperibilità e eventualmente la retribuzione per le ore garantite in aggiunta quelle previste è stato abolito ricordiamo il termine minimo di un giorno di preavviso per chiamare il lavoratore la chiamata mentre per il COCOCO è stato previsto anche lì un minimo di informativa che debba essere data ai collaboratori coordinati continuativi nello specifico a maggior ragione facciamo ancora più attenzione se sono anche organizzati quindi a maggior ragione avranno diritto a questa informativa è stato specificato che dovremmo dare le informazioni definite dal punto A al punto F quindi sono quelle che vedete quindi il luogo di lavoro l'identità delle parti la descrizione della prestazione insomma richiesta la data di inizio la sedia di lavoro insomma quello che vedete che ho riportato lì dovranno essere date anche delle informazioni ai lavoratori occasionali capiamoci pagati quei voucher dove dovremmo dire il lavoratore il luogo della prestazione l'oggetto della prestazione la data di inizio e la retribuzione gratuita che ricordiamo non può essere per legge inferiore a 36 euro per una prestazione di durata uguale interiore alle 4 ore giornalietta per le prestazioni all'estero è stato definito che in caso di distacco del lavoratore all'estero dovrò fornirgli per iscritto prima della partenza eventuali modifiche del rapporto di lavoro nonché le informazioni legate al paese in cui non lavorare la valuta in cui corrisponderò la retribuzione eventuali diciamo indemnità aggiuntive che devo dare a causa insomma del trasferimento a causa delle mansioni che gli verranno affidate e dovrò dargli anche l'indirizzo internet dello stato membro ospitante in cui sono pubblicate tutte le informazioni sul distacco invece nel caso di missione quindi trasferta in periodo superiore alle quattro settimane consecutive dovrò dare prima della partenza eventuali informazioni sulle modifiche del rapporto di lavoro per quanto riguarda i sistemi di decisione monitoraggio automatizzati una delle principali novità su cui comunque si attendono ancora dei chiarimenti cosa sono? Sono dei sistemi di monitoraggio automatizzati che raccolpono dei dati li elaborano e prendono decisioni automatizzate che impattano sul rapporto di lavoro quindi l'assunzione la cessazione del lavoratore ma anche la gestione del lavoro eventuali eventuali promozioni aumenti di retribuzione quindi una delle principali novità del decreto trasparenza quindi in buona sostanza se l'azienda ha dei sistemi di monitoraggio quindi dei software degli applicativi che raccolgono questi dati e questi dati hanno impatto sul rapporto di lavoro dovrò comunque creare una scheda informativa che riporterà queste informazioni che vedete qua di lato per ogni sistema di monitoraggio automatizzato dovrò consegnarle in modo chiaro e trasparente sia ai laboratori che alle organizzazioni sindacali quindi cosa c'è da dire? C'è da dire l'aspetto del lavoro su cui incide l'utilizzo del sistema automatizzato lo scopo e la finalità del sistema automatizzato la logica del funzionamento le categorie di dati utilizzati per appunto programmare e distraire i sistemi automatizzati e poi tutte le misure di controllo di cyber sicurezza messe in atto quindi parliamo nello specifico di software che possono anche organizzare il lavoro immaginiamo appunto nei magazzini appunto dove si smistano le merci in alcuni magazzini dove ai magazziniere viene dato appunto un dispositivo e in base all'ordine devono seguire un determinato percorso per raccogliere le merci e metterle appunto sul muletto e questo sistema in base agli ordini smista già appunto il lavoro fra i vari operatori è un esempio no? Quindi questi qua poi chiaramente dovranno essere dati ancora chiarimenti in questo senso il ministero ha fatto proprio degli esempi di questi tipi di software in cui ad esempio software che ad esempio prevedano un screening automatico dei curriculum ha fatto proprio degli esempi pratici di software che ricadono nella casistica appunto dei sistemi di moneta o raggio automatizzati che devono essere appunto mappati e comunicati sia al lavoratore che alle organizzazioni sindacali andiamo in ultimo sul sistema di sanzionatorio che come vedrete insomma le sanzioni non sono proprio basse insomma è abbastanza importante il sistema sanzionatorio ed è per questo insomma bisogna cercare di adeguarsi prima insomma per tempo il prima possibile